Ormai è sicuro, al modica calcio è il caos totale, con una punta di anarchia. Continuano ad arrivare comunicati stampa che puntualizzano ciò che non è più nemmeno puntualizzabile. Una situazione nera e che difficilmente migliorerà date le posizioni assunte in questi giorni sia dall'uscente dirigenza che dall'amministrazione. Un duro braccio di ferro sulle responsabilità, ma a perderci è il calcio e la squadra. Come ormai da tempo chiedevano ai tifosi più presenti, se ne va una dirigenza malvoluta. Ora la squadra e i giocatori si trovano in stato di anarchia, preoccupati per il futuro e per gli stipendi mancanti. Ne esce bene l'unico, forse, l'ex direttore Peppe Sammito, che volontariamente, per senso di responsabilità, sabato ha portato la squadra da Cireale per evitare la penalizzazione di un punto e la conseguente multa. La partita è salva, anche se poi sospesa, per maltempo sullo 0-0. Ora è tempo di confronti e si dovranno fare entro domenica prossima, dato che i giocatori attendono i soldi e la Lega attende circa 2.500 euro. Domenica ci sarà un prelievo coattivo, prima della prossima gara casalinga, mentre all'orizzonte c'è anche l'avvertenza, portata avanti dall'ex allenatore Sebi Catania, che è lievitata a 3.000 euro. Sabato ha giocato la formazione Juniores con tre senior schierati all'ultimo momento, Filicetti, Rosi e Pianese, che si trovavano da Cireale e hanno deciso di scendere in campo per sostituire tre giovani compagni che non potevano giocare. Un senso di responsabilità è incomiabile, sia dei giocatori che del DS. L'unica salvezza oggi per il Modica Calcio. L'unica salvezza oggi per il Modica Calcio.